C'è una velocissima carrellata con una serie di informazioni su quello che le tecnologie digitali possono offrire nel contesto che viviamo di cambiamento climatico. Siamo nei giorni della COP26, per cui tutti quanti sappiamo più o meno di che cosa parliamo, semplicemente per il fatto di essere cittadini informati in qualche modo e non necessariamente tecnici o agronomi. Io parto sempre da questa curva che trovo geniale, fatta da questo chimico americano Charles Keeling. Questa è la curva di Keeling. Questo Keeling voleva studiare, stimava che ci sarebbe stata una crescita della concentrazione di CO2 in atmosfera a causa dell'utilizzo di carburanti fossili in tutto il mondo e fece una cosa per la quale io sono onestamente molto invidioso. Nel senso che chiese e trovò i soldi per andare a studiare la concentrazione di CO2 nell'atmosfera in un posto lontanissimo. Anziché studiarla a Manhattan o in qualche grande centro urbano, il presupposto della sua indagine era che la concentrazione deve essere più o meno istantaneamente uguale in tutto il mondo. Quindi cercò un posto remoto, una montagna all'Eauai, si fece pagare qualche anno di vita all'Eauai e dal 58 fino al 2005, credo quando è morto, ha raccolto giorno per giorno i dati di concentrazione della CO2 in atmosfera. Portando a questa curva che poi prende il suo nome, in cui vediamo che c'è stata una costante crescita seghettata tra l'estate e inverno perché la Terra respira e quindi ci sono ritmi anche nel modo in cui aumentano le emissioni. Ma questo screenshot l'ho preso questa mattina, la concentrazione mi sembra di CO2 era 419 ppm, quando io studiavo oramai 30 anni fa era sui 320 mi sembra, quindi l'aumento è stato drammatico, impressionante. Era 330, ma comunque un aumento terribile, drammatico, impressionante. E questi gas serra che cosa fanno di dannoso all'ambiente? La CO2 e poi gli altri gas serra fanno tutto quello a cui assistiamo oggi. Cioè innanzitutto un generico aumento delle temperature e se fosse così sarebbe in qualche modo anche prevedibile, controllabile, ma non è solo questo. Si ha un aumento dei cosiddetti eventi estremi, quindi ondate di calore che fortunatamente in Italia non abbiamo ancora avuto in modo consistente negli ultimi anni, si sono avute una quindicina di anni fa, ma che potremo avere nel corso dei prossimi anni. variazioni nelle precipitazioni, concentrazione delle precipitazioni in alcuni periodi o in luoghi e in posti a sorpresa, e sono queste bombe d'acqua a cui assistiamo anche recentemente, per cui in posti inaspettati, mentre nel resto del paese non pioveva, in Sicilia dove normalmente piove poco, si è concentrata un'altissima quantità di precipitazioni, gelate tardive, insomma tutta una serie di cose, tutta una serie di disastri che fanno male all'agricoltura, che è un settore produttivo che vive di ambiente, vive di contatto con il clima e quindi con effetti appunto disastrosi sulla vita dell'uomo sulla terra, sugli agroecosistemi, sugli ecosistemi viventi, ma soprattutto danni fortissimi all'agricoltura. Agricoltura che in parte è causa del problema o rimedio al problema, l'agricoltura ha una sua complicazione che è legata al fatto che i gas serra che vengono emessi in agricoltura non sono la CO2, o non sono solo la CO2, la CO2 viene usata per i trattori, per muovere le macchine agricole sostanzialmente e in questo caso è analoga, l'emissione è analoga a quella di qualunque automobile, di qualunque camion, ma nel caso dell'agricoltura si ha in particolare emissioni di metano e emissioni di protossido di azoto. Metano e protossido di azoto che sono presenti in atmosfera in quantità infinitesime, mentre la CO2 noi la studiamo in parti per milione, metano e protossido di azoto li analizziamo in parti per miliardo, ma sono estremamente più dannosi in termini di effetto serra rispetto alla CO2. L'agricoltura è un grande distributore in atmosfera di quantità infinitesime di gas serra, molto pericolosi, che vengono distribuiti però su grandi superfici, quindi anziché essere un impianto industriale, che a quel punto è facile da risolvere, non ha il problema, nel senso che si mettono dei filtri nell'impianto, si cambiano le tecnologie, si adottano tutte le tecnologie per ridurre quelle emissioni o nuovi combustibili. Nel caso dell'agricoltura la cosa difficile è che le emissioni sono pochissime e sono così limitate che sono anche difficili da analizzare, e però sono diffuse su grandissime porzioni di territorio. In questo slide vediamo da dove protossido di azoto e metano possono derivare. La CO2 può derivare dall'attività di respirazione della sostanza organica e quindi dalla distruzione della sostanza organica dei terreni, ad esempio per lavorazioni profonde. e quindi in questo caso si ha un doppio effetto di emissioni di CO2 legato al trattore che consuma e butta CO2 in atmosfera, e al terreno che una volta rovesciato a sua volta emette CO2 in atmosfera. L'altro fronte su cui si deve lavorare, quindi il fronte del slide precedente è legato alla mitigazione, quelle sono le emissioni come posso ridurre. Il fronte invece specifico di ADA, del progetto per il quale siamo qua oggi, è legato all'altro filone di ricerca e di attività che è l'adattamento, cioè il clima cambia, l'agricoltura si deve adattare a questo clima che cambia. Per cui probabilmente in una certa zona vanno selezionate nuove cultiva, o addirittura nuove colture, vanno utilizzati nuovi sistemi di gestione delle colture o degli allevamenti esistenti per tenere conto del clima cambiato, vanno fatte nuove infrastrutture, per esempio nel settore pubblico, a livello nazionale e regionale, si sta investendo molto sulle infrastrutture irrigue, quindi sistemi di raccolta delle acque e di distribuzione delle acque, perché si sa che in un clima tendenzialmente più caldo e più asciutto per fare agricoltura in qualche modo competitiva bisognerà avere acqua a disposizione in modo costante da parte di reti pubbliche. Allora in questa slide ho riportato molto semplicemente nel caso dell'adattamento che tipo di risposta si può avere, se è un'anticipazione dei problemi o una reazione ai problemi una volta che questi emergono e qual è l'attore, se è l'attore privato o se è l'attore pubblico e vediamo che ci sono vari tipi di iniziative che possono essere realizzate a seconda del momento e a seconda del tipo di attore. Noi parleremo oggi di iniziative che si possono fare sulle infrastrutture ho citato il caso delle infrastrutture in rive, ma ci sono tante altre tipologie di infrastrutture, anche le infrastrutture digitali su cui si può lavorare e anche gli strumenti di ammodernamento delle aziende agricole su cui i soggetti privati possono intervenire. Tutto questo ci porta fatalmente al digitale, digitale che peraltro è scolpito anche nei documenti di programmazione comunitaria. Voi sapete che quando si fanno nuove politiche, nuovi interventi, ad esempio nuovi piani di sviluppo rurale il processo decisionale è molto lungo, gli agronomi che vivono a contatto con gli agricoltori vedono l'ultima fase di questo processo, nel senso che sono i bandi che definiscono gli aiuti o i supporti a cui gli agricoltori hanno diritto e che possono essere loro erogati. Però prima di arrivare a quel momento, molto prima, anni prima, vengono definiti una serie di documenti di programmazione, in Europa appunto li definiamo a livello comunitario e ancora prima vengono definiti in consensi tipo la COP26 che si sta svolgendo in questi giorni a Grego, dopodiché questi documenti vengono, contengono delle linee strategiche di carattere generale che poi vengono declinate in strumenti operativi che sono poi quelli con cui gli agronomi hanno a che fare direttamente e gli agricoltori hanno a che fare direttamente sulle loro attività quotidiane. Allora ho riportato semplicemente in questo slide un paragrafo della strategia Farm to Fork che è una componente della strategia Green Deal dell'Unione Europea su cui si basa la prossima programmazione degli interventi in agricoltura e se scorriamo rapidamente questo paragrafo vediamo che ci sono parole come sostenibilità, come soluzioni basate sulla natura, su tecnologie, sul digitale, sullo spazio per conseguire migliori risultati climatici e ambientali. C'è la parola resilienza ai cambiamenti climatici, quindi la capacità in qualche modo di sapere resistere ai cambiamenti e opporsi ai cambiamenti climatici che sono in corso e ridurre e ottimizzare l'uso di fattori di produzione, ad esempio pesticidi e fertilizzanti. In questo caso, nel caso di pesticidi di riduzione dell'uso di fattori di produzione, ci sono aspetti molto importanti, da un lato legati alla diminuzione dell'inquinamento, cioè se io uso meno pesticidi o uso meno fertilizzanti, tendenzialmente inquino meno, ma uso anche meno energia che deve essere fatta per produrre pesticidi e fertilizzanti. Quindi c'è un doppio aspetto, riduzione dell'inquinamento, riduzione dell'energia necessaria per produrre i principi attivi che poi vengono direttamente distribuiti sui campi. Tutto questo ci porta a una visione dell'agricoltore del futuro, dell'agricoltore per la verità, che già si vede in questi periodi, in questi anni, un agricoltore che è dotato di smartphone, e questo non è un caso eccezionale perché ce l'abbiamo tutti quanti oramai quotidianamente il nostro compagno, ma che colloquia con questo smartphone e interagisce con una varietà di strumenti, da applicazioni in cloud a satelliti, a droni, fino a tutta una serie di sensori che sono sparsi sul campo. Nella mia veloce carrellata di ancora una ventina di minuti, vedremo rapidamente queste tecnologie, come sono utilizzate queste tecnologie, e che significato hanno in un contesto appunto di agricoltura digitale e di agricoltura innovativa. Perché servono? In quali contesti vengono utilizzate queste tecnologie? Quali sono i fidoli di lavoro? E quali sono le tecnologie che vengono utilizzate? Beh, innanzitutto abbiamo il grande mondo dell'azienda smart, dello smart farming, dell'azienda intelligente, e quindi azienda che come si vedeva già nella slide precedente è circondata da tecnologia digitale. Il che non è poi così strano se pensiamo che quelle stesse strumentazioni che vediamo nella slide precedente ce le abbiamo presenti sulle nostre vetture con i sistemi GPS ad esempio e a breve anche con i sistemi di guida automatica o ce le abbiamo nelle nostre case con i sistemi di riscaldamento o i sistemi di domotica. Lo smart farming non è altro che un adattamento di queste tecnologie a situazioni appunto agricole. Poi abbiamo il grande mondo della smart food awareness, cioè del contenuto informativo che viene aggiunto grazie alle tecnologie digitali alle produzioni agricole e credo che vedremo qualche, anzi ne parliamo brevemente in questa slide per vedere due casi particolari e poi non da ultimo, importante soprattutto in termini di emissione di gas serra, una logistica smart dei prodotti agroalimentari. I filoni su cui si sta lavorando sono essenzialmente quelli che ho evidenziato per le tecnologie digitali. Agricoltura di precisione, quindi sistemi che consentono di arrivare vicino al campo, vicino alle coltivazioni e di raccogliere informazioni o agire in modo estremamente preciso e variabile punto per punto nel campo. Sistemi di supporto alle decisioni e marketing digitale. Ne approfitto per parlare brevemente del marketing digitale e della tecnologia blockchain, semplicemente per il fatto che più avanti non ne parleremo più. Per marketing digitale si intende appunto l'inclusione nel prodotto agroalimentare che viene venduto al supermercato di informazioni o al negozio di informazioni che ne arricchiscono di valore aggiunto e di prezzo finale al consumatore. Informazioni che possono essere, ad esempio nel caso della produzione d'orticola, il campo in cui è stata prodotta, l'uso di fertilizzanti o di antiparassitari che ne è stato fatto, la manodopera che è stata impiegata per quella produzione. Sono informazioni di cui alcuni consumatori o il consumatore in generale è avido, è desideroso di conoscerlo, sono informazioni che possono arricchire, diciamo, il valore, aumentare il valore del prodotto e che non possono essere che raccolte con strumenti digitali. I computer sostanzialmente fanno molto più velocemente di noi quello che noi faremmo o fanno cose che noi non saremmo in grado di fare perché richiedono così tante elaborazioni che noi non saremmo fisicamente in grado di farle e nel caso del marketing digitale grazie all'uso di tecnologie blockchain è possibile raccogliere dati in campo direttamente a partire dalle macchine agricole, memorizzare questi dati raccolti in campo in banche dati certificate e non modificabili e poi offrire un elaborato finale con le informazioni che sono state raccolte, un elaborato finale che può finire direttamente sulla confezione finale che va al consumatore finale e quindi da questo nasce la possibilità di mettere su ogni scatola un codice a barre che definisce l'individuo del lotto del prodotto e per esempio con una piccola scansione consente al consumatore finale di sapere tutto di quel prodotto. Allora, la tecnologia blockchain è una di quelle che io ho individuato nel campo delle tecnologie che sono disponibili attualmente sul mercato o per gli utenti finali. Abbiamo uso di sensoristica, quindi sensori avanzati, come sarebbe stata più semplice la vita degli agronomi 50 anni fa o anche solo 20 anni fa se avessero avuto a disposizione i sensori che abbiamo oggi che raccolgono continuamente dati e sono in grado di portarli a computer per successive elaborazioni. Poi una volta raccolti questi dati possono essere utilizzati in modelli e questi modelli possono generare dei risultati per l'utente finale. Prendiamo il caso dell'adattamento per esempio delle culture erbace, il caso più semplice in uno scenario di cambiamento climatico è che mi aumenteranno le temperature estive e probabilmente arriveranno a dei punti, a dei valori così elevati che da essere dannosi per la fisiologia vegetale per la crescita delle piante. Ecco, noi possiamo fare raccogliendo i dati con sensori in campo possiamo fare dei modelli che mi indicano fino a che punto la coltura può essere portata avanti o che magari mi consentono per gli anni successivi di capire quanto mettere la coltura e quanto prima rispetto alla tradizione o alla tradizione consolidata e quanto prima le coltivazioni possono essere messe in campo anticipando la fase di semina o di trapianto e la fase di raccolta evitando gli eccessivi caldi estivi e quindi da lì parte tutta un'attività di modellistica che sta diventando sempre più sofisticata. Un'altra tecnologia su cui si sta molto lavorando con vari tipi di applicazioni è la visione artificiale. In questo caso l'obiettivo è di guardare ciò che succede in campo e di capire quali oggetti o quali animali sono presenti. Il caso più... uno dei casi, non il solo, ma uno dei casi più tipici è l'individuazione di insetti e la classificazione di insetti in campo. È un'attività estremamente complessa nel senso che non basta fare una fotografia di una foglia per capire quale insetto, quanti insetti sono presenti su quella foglia e di che specie sono perché c'è tutta un corredo di questa esigenza, c'è tutta una situazione legata al fatto che sicuramente ogni foglia sarà in una posizione o con un inclinazione diversa rispetto a quella classica con un ombreggiatore o con un sistema di illuminazione che non è quello di laboratorio con situazioni a contorno che non sono quelle migliori possibili. Ecco, esistono, si stanno sviluppando sistemi di visione artificiale che consentono di tenere conto di tutti questi aspetti e individuare istantaneamente prima di tutto la forma dell'insetto su una foglia che già di per sé è un compito non facile e una volta individuato l'insetto capire di che insetto si tratta. Tutto questo poi ci porta alla possibilità di usare attuatori o comunque di usare sistemi che sulla base delle informazioni raccolte in loco consentono di fare qualche cosa ad esempio mettere un po' più di fertilizzante dove è necessario o un po' meno di pesticida dove è meno necessario. C'è poi tutto il settore delle tecnologie satellitari e darò un breve esempio ma chi parla dopo di me ne parlerà a lungo. C'è il settore della robotica che è in fase di sviluppo esponenziale. C'è il settore della realtà aumentata ugualmente molto interessante. pensiamo a quello che può succedere per esempio nel caso di riparazione di macchine di macchine agricole anche in cui l'operatore il meccanico può portare degli occhialini degli occhiali in cui vede direttamente i manuali o vede quali sono le parti che deve toccare del motore perché è guidato a distanza da un elaboratore che gli dice fai questo o fai quest'altra cosa. Sono ugualmente anche queste applicazioni possibili e su cui stanno lavorando vari laboratori in giro per il mondo. Dopodiché tutti questi dati raccolti in campagna in campo devono essere trasmessi possono essere trasmessi fuori dall'azienda che è un po' poi quella nuvoletta che vediamo nella parte di destra della slide quando si parla di future internet il cloud quindi è possibile immaginabile che molti dati finiscano fuori dall'azienda con tutte le implicazioni anche negative che esistono di cui poi farò un breve cenno e per portare i dati fuori dall'azienda verso sistemi di elaborazione esistono vari tipi di reti reti 5G reti in fibra ottica reti Lora One daremo un breve accenno anche di queste qua. quindi un vasto range di tecnologie per esigenze che sono note in azienda e che alla fine consentono di avere un'azienda più genericamente sostenibile e più in grado di resistere ai cambiamenti climatici. L'assunto a base dell'agricoltura digitale e dell'agricoltura di precisione è che i campi non sono uniformi noi li vediamo da lontano uguali ci sembrano uguali da lontano non riusciamo e non riusciremo mai a capire il fatto che invece i campi tendenzialmente non sono uniformi ci sono alcuni punti più ferti gli altri meno ferti gli altri alcuni punti in cui c'è meno bisogno di fertilizzante alcuni punti in cui ci può essere un distagno d'acqua per cui bisogna portare attenzione anche a questo problema ecco i campi non sono uniformi e quindi richiedono trattamenti localizzati e nessuno può fare questa cosa meglio di un computer perché nessuno è in grado di capire queste cose di raccogliere questi dati di digerire enormi quantità di dati e poi agire di conseguenza appunto ad esempio per un trattore che distribuisce fertilizzanti sapere a priori sulla base dei dati raccolti l'anno prima quali sono i punti in cui ci sono in cui il campo è più fertile o meno fertile e di conseguenza agire in modo differenziato sulla distribuzione di fertilizzanti importantissima è per l'agricoltura digitale la raccolta di dati meteo tant'è che ne parleremo espressamente dopo di me sostanzialmente in passato i dati venivano raccolti in capannine puntiformi lontane fra di loro in modo semiautomatico cioè ci voleva sempre qualcuno che poi andasse a leggere i dati dentro un campo cosa che non è mai né comoda né facile né agevole con le capalline meteo di ultimissima generazione si sono ridotte tantissimo i costi perché è molto meno costoso che in passato i sensori sono molto meno costosi che in passato ma soprattutto la raccolta di dati è automatica sono centraline connesse per cui sono centraline che riescono a mandare i dati istantaneamente a un database centrale e istantaneamente possono essere collegati a modelli ai modelli di simulazione di cui abbiamo parlato in precedenza e poi i dati sono in cloud i dati non vanno più copiati a mano fino a pochi decenni fa i dati raccolti devono essere ricopiati a mano e finivano in un cassetto sostanzialmente nella proprietà del singolo agricoltore se aveva la capannina o del sistema di rilevazione adesso spessissimo i dati sono in cloud e sono condivisi con tutti i benefici che ne derivano esistono in agricoltura reti LoRaWAN ne parlo rimango su questa slide veramente pochi pochi secondi però quando si parla di connettività di connessione di dati di trasporto di dati dai sensori dalla sensoristica in campo alle laboratorie centrali molto spesso si fa riferimento a reti di tipo LoRaWAN che hanno un bassissimo consumo consentono di trasmettere pochissimi dati quindi non vanno bene per fare un'attività di videoconferenza come oggi ma trasmettono a lunga distanza e in grande sicurezza il che vuol dire che io posso installare nella mia azienda agricola una sistema di capannine meteorologiche non solo più una capannina che dopo tre settimane che è stata installata si rompe o me ne sono dimenticato mi dimentico un giorno di raccogliere dati ma una rete di capannine che raccogliono i dati istantaneamente istantaneamente le trasmettono a un punto centrale e poi da lì ancora un altro smistamento verso un sistema cloud nel quale possono essere elaborate successivamente la mancanza di uniformità nei campi che è il nucleo dell'agricoltura di precisione può anche essere studiata con droni e nel mio ente il CREA si fanno studi di questo tipo c'è un gruppo di lavoro che usa i droni per fare una raccolta istantanea velocissima di fotografie in sequenza una dietro l'altra di singoli pezzi dell'appezzamento da questa fotografia viene da questo insieme di fotografie viene costruito un mosaico e su questo mosaico vengono poi fatte elaborazioni molto rapidamente successivamente per comprendere ad esempio il grado di crescita della vegetazione o la presenza di eventuali malattie crittogamiche o di eventuali erbe infestanti o di insetti che provocano danni alla cultura sono elaborazioni che prima era impossibile pensare di fare e che invece adesso con tecnologie che sono sempre di frontiera sono sempre di punta ci metteranno qualche anno per essere stasi ma comunque renderanno possibili applicazioni di questo tipo un aspetto che io trovo estremamente importante nelle cose che possono essere fatte è la consulenza irrigua credo di averne accennato brevemente prima in un contesto di cambiamento climatico è importantissima la gestione dell'acqua e ce ne rendiamo conto ogni estate di più e anche ogni inverno di ogni ottimo inverno da quanto piove di più ed è importantissimo fornire agli agricoltori una consulenza irrigua che consente a loro di ottimizzare l'uso che si fa dell'acqua anche perché quello che solitamente fanno tradizionalmente fanno gli agricoltori è di abbondare tanto l'acqua c'è c'è sempre stata perché non aumentare i turni se l'acqua è disponibile o perché beh ci sono varie ragioni per non farlo il primo è che appunto l'acqua è un bene comune di tutti coloro che vivono all'interno di un distretto irriguo per cui va consumata in modo risparmioso in modo efficiente più che risparmioso la terminologia esatta efficiente da parte di tutti e poi perché l'irrigazione è un'attività estremamente energivora alimentare le pompe costa o eventualmente i pozzi costa molta energia ed è una cosa che vogliamo evitare e poi perché se uso troppa acqua porto via con l'acqua anche i fertilizzanti o gli erbicidi che eventualmente ho messo in campo oltre al problema della perdita comunque che c'è anche per evaporazione durante la fase di quindi io devo ottimizzare tutto questo per rendere l'irrigazione nel processo più efficiente possibile allora per fare questo non è facile sembra facile non è una cosa banale e sono stati sviluppati in Italia ma anche in altre parti del mondo dei sistemi basati su tecnologia satellitare che consentono da satellite di capire lo stato delle colture di capire se la pianta è in sofferenza o potrà andare in sofferenza o meno collegare queste informazioni a quanta acqua ci dovrebbe essere in campo o magari collegarla a dei sensori che sono effettivamente presenti in campo e collegarla anche alle prossime previsioni meteo per cui se la pianta è a rischio ma sappiamo che domani piove sostanzialmente è poco utile irrigarla in questo momento e fornire una consulenza irrigua personalizzata in un modo che solo un sistema computerizzato può fare ci sono applicazioni attive a questo riguardo in Italia in altri paesi al mondo ed è un settore su cui si sta veramente lavorando tantissimo abbinando sensoristica in campo e tecnologie satellitari in modo sinergico e integrato di questa il sistema mi avverte che devo scusate ricomincio scusate l'interruzione dei sistemi di visione artificiale vi ho già parlato in precedenza qua abbiamo una slide che ci presenta il caso ho una foglia devo trovare l'insetto cosa che che non è sempre così così facile devo capire di che insetto si tratta e quindi anche questo è un altro compito e poi magari una volta capite tutte queste cose devo anche collegare in tempo reale il tutto a un sistema che su quell'insetto o su quella malattia crittogramica è in grado di svolgere qualche azione e anche questa è una frontiera su cui si sta lavorando e che io trovo sia molto molto interessante dopodiché c'è anche la zootecnia digitale sfioro questa slide perché nell'ambito di questo ciclo di seminari ci sarà un collega che è specializzato proprio in questo settore per cui diciamo che nel caso della zootecnia digitale l'assunto di base è che un animale che sta bene è un animale produttivo e quindi si utilizzano tutta una serie di sistemi per fare in modo di capire che l'animale diciamo quanto un animale sta bene individuare subito un animale che ha problemi per individuare tutti i rimedi che devono essere eventualmente portati avanti e quindi è un campo molto affascinante soprattutto tenuto conto anche del fatto che la filiera lattiero casearia è presente in ADA ed è un campo su cui il mio collega del CREA sicuramente vi fornerà tutti gli aggiornamenti del momento vi ho parlato prima di connessione di connettività ricordiamoci che come CREA noi stiamo lavorando anche al progetto di connessione della fibra ottica al maggior numero possibile di aziende agricole e se nel vostro paese nella vostra zona trovate un tombino come questo con la scritta BULL ecco sapete sappiate che in quella zona si sta portando la fibra e portare la fibra è diciamo un prerequisito essenziale per tutte le applicazioni di cui vi ho parlato in precedenza per questa enorme quantità di dati che fatalmente vengono utilizzati devono essere digeriti e gestiti da questi laboratori che sono potenti che quello fanno dei mestieri ma che hanno bisogno poi di una di una rete efficiente ad alta velocità per poterli fare spostare traslocare da un computer all'altro ci sono problemi? sì ce ne sono tantissimi tantissimi prima di tutto il primo problema è che questo richiede nuovi skill e non tutti sono sono attrezzati non è solo un fatto generazionale chiaramente poi tutti se si introduce una nuova tecnologia in azienda tutti devono essere in grado di utilizzarla non solo il figlio dell'agricoltore o il nipote dell'agricoltore per cui ammesso che i giovani siano più bravi e non sempre vero degli anziani a utilizzare le tecnologie digitali e quindi c'è un problema di formazione comunque del settore agricolo che deve essere affrontato c'è un problema di interoperabilità cioè di funzionamento di applicazioni in comune sulle stesse banche dati di trasferimento di dati fra un'applicazione e un'altra è un problema che c'è diciamo in tutte le cose in tutte le fasi dell'informatica in tutti i settori dell'informatica ma che è un problema particolarmente vivo per esempio quando vi parlavo prima dell'importanza della possibilità che dava blockchain di aumentare la catena di valore dei dati in agricoltura beh se faccio uso blockchain devo però avere applicazioni che sono fra di loro interoperabili lungo la filiera e non è una cosa banalissima e l'ultimo aspetto che invece ritengo sia il più importante e di cui si parlerà anche dopo di me penso Cristiano ne parlerà è la proprietà dei dati cioè tutto tutte le applicazioni che hai fatto vedere si basano su elaboratori che fanno quello che sanno fare bene i computer cioè trattare elaborare trattare grandi quantità di numeri sostanzialmente e ottenere dei risultati ma di chi sono quei numeri non è un problema banale quando un trattore quando un sensore raccoglie i dati di umidità del mio terreno a chi li trasmette e chi poi può utilizzare quei dati li può utilizzare qualcuno per esempio che l'anno prossimo verrà a offrirmi nuovi sistemi irrigui li può trasmettere a qualcuno che ne so dall'altra parte del mondo che sa quant'è la fertilità potenziale del mio terreno con una certa cultura non sono dati cioè i dati che vengono raccolti sono dati comunque importanti e bisogna capire chiaramente nel momento in cui vengono utilizzati a chi vanno a finire e che cosa ne viene fatto esattamente tanto è vero che i dati che vengono raccolti in agricoltura dai sistemi di tecnologia digitale e di agricoltura di precisione sono protetti dalla normativa del golden power sono dati sensibili sono dati importanti per il paese ed è importante che siano protetti ora su tutto questo si apre un mondo vastissimo su cui ci sarà eventualmente necessità di riflettere anche in futuro però è un tema assolutamente di grande rilevanza così come lo è ad esempio per chi accede al social network e non sa che cosa significhi esattamente puoi fornire i propri dati personali alla molteplicità di soggetti che sono presenti su internet detto questo io spero di avere stimolato la vostra curiosità sono a disposizione più avanti per domande o per contributi da parte vostra e rimango a questo punto a sentire i colleghi che parleranno da poi grazie